Alessandro Scuzzarello, mister della Corniglianese, che cosa pensa della partita giocata oggi? Oggi sicuramente era una partita molto difficile in un campo ostico, in quanto molto stretto e quindi dove magari certi valori viene a mettere di un attimo la parte. Comunque abbiamo giocato direi una buona partita e in questi campetti qua, come era già successo al Baillardo, a favore nostro anche lì chi fa gol per primo poi di solito porta a casa il risultato. E che cosa si aspetta dalle prossime partite e dai suoi giocatori in generale? Guarda, questa è la sosta vittoria consecutiva in campionato, quindi spero vivamente di continuare la striscia positiva per riuscire a concludere il campionato nella zona che comunque penso di esserci meritati ampiamente, quali play-off. Nel complesso può ritenersi soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori oggi? Quello sicuramente, oggi avevamo un po' di assenze però comunque tutti hanno dato il massimo come è giusto che sia perché siamo in un grande gruppo e quindi tutti si sentono parte della squadra e questo secondo me è molto importante.